Passione, precisione e spettacolo. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il trofeo Riviera del Conero che si è svolto al Conero Golf Club di Sirolo. Un torneo nazionale che ha visto protagonisti uomini e donne, oltre 70 i partecipanti. Due bellissime giornate di gara di importanza nazionale, 70 iscritti provenienti da tutta Italia. Il golf è uno sport costantemente in crescita grazie ai successi dei nostri campioni che a livello internazionale stanno ottenendo grandissimi risultati e anche al fatto che è possibile seguirli su canali specializzati. Vorrei ricordare che è possibile fare delle prove gratuite, quindi prenotandosi tramite la nostra secreteria è possibile venire qui al nostro club e provare gratuitamente questo sport per poi magari iscriversi ai corsi di avvicinamento che facciamo costantemente, continuamente. Tornando alla gara che si è svolta nelle dolci colline del Conero Golf Club, ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica del netto femminile è stata Celeste Suardi. Per quanto riguarda il Lordo, secondo posto per Liana, Tomova, Simeonova e prima piazza per Rebecca Bonfigli. Per i maschi, secondo classificato nella classifica netto Luca Zauli, vittoria invece per Giorgio Santarelli. Decisamente avvincente l'esito della classifica del Lordo che ha visto le prime due posizioni decise dallo spareggio alla buca 18. Terzo posto nell'ordo per Filippo Ronconi, secondo posto dopo lo spareggio per Davide Zarotti. Vittoria e primo posto a Enea Moretti.